E diciamo ci sono queste bellissime possibilità che arrivano da persone. Noi ci facciamo interpreti di un gruppo di persone che hanno voluto donarvi degli strumenti musicali, perché ci sono anche dei piccoli musicisti qui. Certo, proprio due nipoti di Taissa, anzi tre, sono musicisti, due suonano il violino e una suona il pianoforte. Io mi auguro che possa arrivare anche un pianoforte, naturalmente incomodato d'uso, ma gratuito. Sì, arriva la settimana prossima, è arrivata una volontaria che insegnerà loro a suonare. Allora grazie anche a Stefania, veramente, perché ci ha portato la musica qui in istituto. Stefania Lupato, una decisione così di cuore di venire a insegnare a questi ragazzini? Sì, beh, una decisione umana, direi, prima di tutto. Mi si era liberato a metà pomeriggio perché avevo degli assenti, allora ne ho approfittato per venire qui col violino, più parti possibili da lasciare e chiacchierare anche un po' con i ragazzi, che anche quello fa sempre bene, un po' di contatto umano. La cosa importante è che tu sei italo-russa e quindi puoi parlare con loro e farli sentire un po' a casa, diciamo. Sì, cioè sicuramente, cioè per questioni proprio pratiche, la lingua aiuta e infatti oltre a suonare, eccetera, devo dire che abbiamo chiacchierato tanto, mi hanno raccontato un po' come si trovano, com'è la situazione, e anche la nonna dei due ragazzi, si è un pochino sfogata sinceramente e anche solo poter ascoltare e capire, penso, significhi tanto in periodi così. La musica le può aiutare un po' a superare, a pensare ad altro? Penso di sì, nel senso che è comunque un ritorno alla normalità, per quanto possibile un po' coltivare le proprie passioni, tornare a, non dico alla routine che si aveva, ma comunque fare qualcosa che si faceva anche a casa. Devo dire che li ho visti contenti, molto contenti, hanno preso tutte le parti che ho dato, hanno già deciso questa sera suoniamo, possiamo suonare anche tardi o disturbiamo, mi hanno chiesto, quindi c'è stato un ottimo feedback, decisamente, sì, sì. È stata un po' emozionante, immagino, all'inizio. Sì, sì, soprattutto all'inizio, quando abbiamo parlato un po', non che mi aspettassi qualcosa di diverso, ovviamente, visto la situazione, però sì, così è, insomma. Abbiamo visto i loro occhi un po' più sereni alla fine della lezione. Sì, 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 devo dire di sì, poi hanno iniziato a mostrarmi delle parti che vorrebbero suonare, hanno girato fuori YouTube, sul telefono, quindi è stata una lezione normale, come quella che faccio con i miei ragazzi italiani nelle scuole, però appunto perché era qualcosa di normale in un periodo in cui penso, sì, che la loro vita sia stata abbastanza stravolta e proprio perché era normale, insomma, penso abbia portato un po' di serenità. Grazie a te e alla tua scuola che ha dato la disponibilità, devo dire, con grande generosità. Volentieri, molto volentieri. Grazie. Grazie.